L'Avezzano vuole tornare alla vittoria dopo l'ottima prestazione, ma senza punti in casa della capolista Campobasso. I biancoverdi vogliono ritrovare la vittoria al Dei Marsi, che manca dal 28 gennaio scorso. In terra marsicana arriva il fanalino di Codamatese, che proprio nell'ultimo turno ha centrato il successo contro il Fossombrone. Quattro punti nelle ultime due gare per i campani, che con la cura a Feola stanno provando a raddrizzare la stagione. Vasto Girardi è ganciato e focus sulla zona play-out, distante solo due lunghezze. Ferrazzoli recupera Ferrani, ma non volò in Rotondi. Davanti consolidata la coppia Tunkerà-Roberti, dirige Waldman di Frosinone. Avvio di contesa caratterizzato da tanti duelli, ma poche trame interessanti. Per la prima vera occasione bisogna attendere il diciassettesimo, quando De Silvestro da calcio di punizione pesca la testa di Tunkerà, Marinaldini è reattivo. Sulli sviluppi del corner, Mascella ci prova di prima intenzione dalla lunga distanza, ma il pallone si alza. Al ventesimo si fa vedere pericolosamente anche il Matese, con Galesio, che conduce fino al limite dell'area, da cui scaglia un destro che diventa insidioso. Brusca è costretto a respingere. Dall'altra parte forte gira di testa, ma non indirizza bene. Tre minuti più tardi il numero 90 è più preciso e porta in vantaggio l'Avezzano, dopo un'ottima combinazione con Ferrante e Tunkerà. Il piattone non lascia scampo a Rinaldini. I biancoverdi sembrano poter controllare il vantaggio, ma al quarantesimo Brusca viene chiamato in causa per ben due volte, da capitare Ricciardi. La prima conclusione è più angolata, la seconda è centrale e facile per l'estremo difensore classe 2005. Il match vive di fiammate, un minuto più tardi Roberti, partito sul filo del fuorigioco, viene lanciato solo contro Rinaldini, ma spreca così. È l'ultimo squillo del primo tempo e con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa. L'Avezzano con convinzione prova ad allungare, De Silvestro dopo tre minuti punta, salta un avversario e calcia da posizione defilata, Rinaldini ci mette i pugni. Sul corner successivo Ferrante trova il pertugio e penetra in area, ma Rinaldini copre bene lo specchio e neutralizza anche stavolta. Al dodicesimo Passewe prova a lanciare un segnale con un'azione personale, che non porta agli effetti desiderati. Con il passare dei minuti il Matese prende coraggio, al venticinquesimo Brusca deve disinnescare un calcio di punizione ben indirizzato sotto l'incrocio da Galesio. Tre minuti più tardi l'asse Passewe Galesio porta Langellotti al tiro centrale, ma molto insidioso. Brusca interviene con i piedi e con un brivido. Al trentaquattresimo si spengono le speranze del Matese, che resta in dieci uomini. Lesi entra in area e cade a terra, per il signor Waldman di Frosinone e simulazione, ed estrae il secondo cartellino giallo, al numero 22. Un paio di minuti più tardi i padroni di casa raddoppiano con il Nentra Toverna, che sfrutta alla perfezione il servizio di Tuncarà. Finale in carrozza per Lavezzano, che rischia più volte di fare il tris. Azione prolungata al trentottesimo, ci prova prima Roberti, poi Luciani, Rinaldini salva due volte. Infine Verna spedisce alto. Al quarantatresimo un ingenuo Danceschi viene espulso per un fallo su Passewe, con il pallone non più a disposizione. Rosso diretto per il numero 99. Nel recupero Roberti prova a capitalizzare due volte, ma prima trova Ronaldini e poi manda alto. Al De Marsi, Lavezzano torna alla vittoria, battendo 2-0 il Matese. E Rosicchia, punti importanti per la zona playoff.